Ciao, oggi vi parlo di un titolo decisamente particolare perché dovete compiere missioni nel ruolo del Mandaloriano e degli altri personaggi che compaiono all'interno della prima stagione della fortunata serie. Vi parlo di Star Wars The Mandalorian Adventures, gioco di Cory Konieska per 1 o 4 giocatori, una durata missione di circa 60 minuti ed edito da Asmoda Italia. Io sono Teo e queste sono Recensioni Minute. Per giocare una partita innanzitutto leggeremo le due pagine di fumetto che ci daranno un po' l'introduzione alla missione che dovremo compiere. Dopodiché, girando le pagine di questo libro, incontreremo la plancia della nostra missione. Per preparare la missione dovremo affidarci però al mazzo guida che man mano che giocheremo partite, faremo obiettivi, insomma man mano il mazzo guida stesso ci dirà quando, potremo aggiungere queste numerose carte al gioco base. Le carte daranno nuove abilità, nuovi poteri, nuovi personaggi, sbloccheranno nuovi obiettivi, ma anche nuovi modi di poter vincere o essere sconfitti. Insomma, ogni missione è a sé stante ma man mano che diventeremo più bravi diventerà sempre più complicato e sempre più completo il tutto. In sostanza, il mazzo guida ci spiegherà quando e come utilizzare tutti i materiali che saranno contenuti all'interno della scatola, ma soprattutto quando e in che modo utilizzare i materiali contenuti all'interno di queste due megabuste. Per ciascuna mappa ci verrà spiegato quali personaggi utilizzare, se non altro nelle prime partite, ciascun personaggio ha la sua carta, inizia come recluta ma poi diventano sempre via via più performanti e con abilità, ogni personaggio ha la sua mazzazione, il segnalino, la mappa ci dice qual è l'obiettivo di vittoria, quali sono le condizioni di fallimento, se ci sono regole speciali per questa mappa specifica e poi quali sono le crisi e eventi che si potranno generare. Inoltre qua sotto avremo sempre le quattro azioni da utilizzare. Durante il proprio turno un giocatore attraversa sempre queste quattro fasi. La prima fase è quella delle azioni, un giocatore sceglierà due carte dalla propria mano ed effettuerà due azioni diverse all'interno di questo turno, tra movimento, attacco, spionaggio e pianificazione. La meccanica di base è che il numero riportato in alto a sinistra indica la forza dell'azione che stiamo per performare. Due in un'azione di movimento significa che posso fare fino a due passi con la mia miniatura. Due in attacco mi permette di infliggere fino a due danni a una miniatura nella gittata 1. Chiaramente ci sono linee di vista e alcune piccole eccezioni ma una volta inflitti danni superiori alla costituzione della creatura nemica la creatura viene rimossa dal gioco. Giocando la carta nell'azione di spionaggio posso guardare una delle minacce a faccia in giù, entro gittata, ad esempio quindi potrei guardare questo segnalino e rimetterlo in sua posizione. I segnalini a faccia in giù possono nascondere truppe nemiche imboscate ma anche dei bonus oppure bersagli per completare la missione. Infine con la pianificazione possiamo pescare il numero indicato di carte pianificazione, sceglierne una da conservare, sono sempre delle abilità che possono essere usate una volta o continuative e rimetterne le altre in cima al mazzo nell'ordine che preferiamo. Alcune carte possono anche attivare un bonus se usate nell'azione corrispondente, ad esempio l'attacco furtivo giocato in movimento mi permetterà non solo di muovermi come abbiamo visto prima fino a due caselle, ma anche di infliggere due danni a un nemico nella tua casella prima che i nemici si possano muovere, quindi ad esempio potrei fare uno o due passi e infliggere ulteriormente due danni. O ad esempio giocare localizzatore nell'azione di spionaggio mi permette non solo di guardare la tesserina a faccia in giù ma anche di muovermi di una casella ignorando le capacità dei nemici. Dopo aver concluso le azioni passiamo alla fase di evento, per ciascuno slot facciamo la somma dei numeri riportati qua in alto a sinistra, se essa è 5 o più succedono cose. Intanto con un 5 o più dobbiamo pescare una carta evento e risolverla interamente, in questo caso abbiamo una rissa quindi tutti i nemici con questo simbolo faranno due passi verso il giocatore più vicino, dopodiché due nemici con questo simbolo attaccheranno agitate a zero. Dopo aver risolto l'evento tutte le carte e segnalini si scarteranno. Se la carta evento non può essere invece risolta dobbiamo semplicemente pescare uno di questi segnalini rinforzo che andrà messo nella prima casella rinforzo più vicina al giocatore pronto ad attaccare. Se la somma invece è 6 o più innanzitutto risolviamo la crisi, in questo caso la missione ci dice di piazzare un segnalino qua sopra e quando ci saranno 3 segnalini dobbiamo rimuoverli e generare un rinforzo in questa casella. Dopodiché risolviamo l'evento come abbiamo visto. A questo punto si entra nella terza fase, quella di pesca, dove il giocatore pesca due carte e fa passare il turno al giocatore successivo. Si continua a giocare così fino a quando non avremo raggiunto le condizioni di vittoria oppure se non avremo raggiunto il fallimento. Come avete visto il regolamento è davvero semplice da prendere, si tratta di queste quattro azioni e poi è modulare, ma comunque questa idea di avere solamente due azioni a turno da scegliere tra queste quattro rimane costante. Quello che cambierà chiaramente sono le complessità delle missioni e tutto quello che potranno fare i diversi personaggi. Ma andiamo con ordine, iniziamo a parlare del mazzo guida. Vi farà giocare come una sorta di tutorial introduttivo, una prima missione in cui imparerete a fare le mosse. Sarà pressoché impossibile perdere, diciamo comunque sarà molto difficile perdere, ma prenderete un po' confidenza con i vari materiali. A quel punto sarete pronti per inserire giusto un paio di cose all'interno dei vostri mazzi in modo da cominciare a vedere qualche azione avanzata. Ed è lì che comincerete a intravedere che c'è una grossa potenzialità. Non voglio spoilerare troppo, quindi rimango un pelo vago. Diciamo che utilizzerete gli otto personaggi, ognuno ha un mazzo completamente asimmetrico rispetto agli altri e quindi va giocato in maniera diversa. A un certo punto addirittura il mazzo potrebbe dirvi ad esempio di poter comporre la vostra squadra. E a seconda dei punti di forza e di debolezza di ciascuno dei personaggi, anche comporre la squadra potrebbe cambiare il modo di approcciare le missioni. E le missioni diventeranno via via più complesse. Non necessariamente ci saranno più nemici da battere o saranno più lunghe, ma dovrete fare delle cose in più. Magari dovrete difendere qualcuno mentre portate avanti la missione, magari dovrete cercare di avere un obiettivo particolare mentre state portando avanti un altro obiettivo. E via via che questo mazzo vi inserirà le carte nei mazzi e il mio consiglio è cercate di non guardarle. Inseritele così avrete un colpo di scena o una sorpresa in più, magari anche proprio dal mazzo 20. Magari mentre portate avanti queste nuove missioni scoprirete che la missione che già conoscevate si modifica sul piano di gioco. Ci sono dei nuovi token che vengono messi, insomma anche la stessa missione rigiocata, secondo quanto vi dice questo mazzo, potrebbe cambiare decisamente faccia e complessità. E via via quindi diventerete sempre più bravi, maneggerete sempre più regole o comunque alcuni vincoli senza rendervene conto e combatterete delle battaglie decisamente epiche. E entreranno in scena queste due buste. Qua dentro ci sono dei veri e propri materiali che sostituiscono in qualche modo alcuni materiali, ci saranno dei nuovi scenari, entreranno in scena anche nuove tipologie di nemici, ci saranno dei grossi effetti wow. Non voglio proprio dirvi niente, quando prendete le buste scoprirete che anche quello che conoscete può ulteriormente evolversi e quindi davvero la rigiocabilità è altissima. Da questo punto di vista però vi faccio un appunto, ciascuna missione è calibrata per un determinato numero di personaggi, non necessariamente i personaggi proprio, ok all'inizio sì ma dopo potrete appunto cambiarli, ma ad esempio alcune sono per due personaggi, alcune per tre, alcune per quattro, quindi se giocate in solitario va benissimo, potrete pilotarli tutti quanti. Diciamo che il numero ottimale potrebbe essere due, in modo tale che possiate coordinarvi e decidere come pilotare i vari personaggi neutri, mettiamoli così, io tengo uno tutti nell'altro e muoviamo insieme quello. Se siete in un numero più alto di giocatori, allora a quel punto dovrete adattarvi e cercare di giocare un po' di team, ecco questo è l'unico spauracchio che vi metto prima di mettervi a giocare. Le equisniche questo Mandalorian è adatto davvero a tutti i tipi di giocatore, anche chi si avvicina un po' al mondo del gioco, piano piano diventa progressivamente più bravo, chi è già bravo troverà velocità nelle prime partite e poi comincerà a trovare la ciccia che sta cercando e gli effetti wow sono davvero dietro ad ogni angolo. Vi consiglio sicuramente una partita e vi saluto con un ciao e alla prossima! Bene, come sempre grazie per essere arrivati fino a qua, ricordatevi che potete iscrivervi qua su YouTube e sul canale Instagram dove passano un sacco di cose che non passano qua su YouTube, anche proprio vere e proprie recensioni, quindi non perdete tempo, iscrivetevi. Sul canale Telegram rimanete aggiornati su tutto con delle notifiche push che sono super comode e guardate qua in descrizione perché trovate dei bei link che danno dei vantaggi a voi senza spendere un euro di più, ma soprattutto sosterrete contestualmente il canale Recensioni Minute per renderlo sempre più bello. Ciao ne!